buonasera a tutti benvenuti all'ormai consueto appuntamento del lunedì per la serie di webinar dal titolo habitat dalla terra ai castelli romani questa sera il quarto incontro e questa serie di webinar sono a cura dell'eco istituto rese da onlus e sono stati realizzati grazie al sostegno e alla disponibilità del sistema castelli romani che ringraziamo i webinar hanno lo scopo di formare all'educazione ambientale sia volontari che operatori hanno l'obiettivo di creare un'azione educativa nei confronti degli adulti verso gli adulti ma anche verso scuole associazioni istituti ed enti pubblici e il motto l'idea che si vuole creare è quella di pensare globalmente ed agire localmente l'appuntamento di stasera è dedicato alla situazione delle falde idriche dei castelli romani e dei laghi nelle prossime settimane i prossimi lunedì invece sarà la volta per i prossimi lunedì sarà la volta di cambiamenti climatici modulo 1 e cambiamenti climatici modulo 2 a seguire la sostenibilità ecologica l'ecogeografia l'agroecologia per finire l'ecosofia e la porno ecologia potete collegarvi su castelli informa per avere sia informazioni sui singoli webinar che per effettuare l'iscrizione che raccomandiamo di fare il prima possibile perché i posti sono limitati e se volete sostenere il progetto di riforestiamo i castelli romani potete partecipare al crowdfunding tramite la resa da onlus e quindi tramite sia bonifico bancario che tramite donazione del 5 per mille ripeto che il titolo del webinar di stasera è i laghi e le zone umide dei castelli romani lascio la parola a Roberto Salustri che condurrà il webinar e vi auguro un buon ascolto Buonasera a tutti, questa sera come ha detto la mia collega parleremo delle zone umide e dei laghi dei castelli romani ultimamente abbiamo festeggiato la giornata mondiale delle zone umide qui ai castelli romani abbiamo diverse zone umide non solo il lago Albano e il lago di Nemi ma ce ne sono molte altre tra cui il pantano della Doganella, la zona umida di Valle Ariccia il lago di Giulianello, il sistema dei fossi di Lanuvio e di Velletri il fiume Almone, il bacino dell'Incastro e in generale tutto il sistema idrografico dei castelli romani che va anche verso il Tevere e verso il fiume Sacco le zone umide sono molto importanti tant'è che è stata istituita questa giornata mondiale delle zone umide e vediamo innanzitutto perché sono importanti sicuramente la questione idrogeologica è quella più banale nel senso che appunto le zone umide fanno parte del sistema idrogeologico in particolare hanno un effetto di attenuare e regolare i fenomeni atmosferici cosa sempre più importante visto i cambiamenti climatici in atto diciamo che in generale le paludi, le torbieri, i fiumi fanno un effetto spugna cioè raccolgono le acque durante le piene rilasciandolo piano piano quindi riducono il rischio di alluvione hanno anche un effetto di filtrare gli inquinanti e rallentare il deflusso delle acque e al contrario durante i periodi di magra rilasciano acqua e poi sono importantissimi come vedremo anche ai castelli romani come serbatoio per le falde acquifera poi sicuramente hanno un effetto di tipo biochimico e chimico fisico perché sono trappole per alcuni nutrienti la vegetazione presente nelle zone umide riesce a filtrare diversi inquinanti e in alcuni casi addirittura a eliminare l'inquinamento sicuramente possono assimilare fosforo, potassio, azoto e altri inquinanti che in realtà possono diventare dei veri e propri nutrienti per la vegetazione e poi soprattutto hanno un ruolo di decomporre la sostanza organica molto importante soprattutto in alcune zone umide e nelle torbiere sono dei veri e propri depuratori naturali inoltre bisogna dire che da un punto di vista biologico le zone umide sono un serbatoio di biodiversità molto importante questo serbatoio di biodiversità è un serbatoio che soprattutto paludi, delta dei fiumi, torbiere riescono a ospitare tantissima diversità biologica immaginate che a livello mondiale 146 specie tra gli uccelli minacciati in via di estinzione vivono nelle zone umide o comunque migrano da e verso le zone umide gli ecosistemi acquatici, le zone umide sono il terzo gruppo di ambienti per numero di specie minacciate dopo le foreste e le savane le zone umide hanno anche un ruolo produttivo per le attività umane soprattutto le zone costiere ma anche i fiumi e i laghi addirittura in alcuni casi grazie alle paludi che si possono coltivare fibre vegetali non scordiamo poi anche l'aspetto educativo turistico di cui WWF e LIPU sono maestri visto che stanno difendendo molte zone umide italiane e poi anche da un punto di vista culturale storico e scientifico perché non solo i climatologi utilizzano ad esempio le torbiere o alcune paludi per studiare il clima del passato ma le attività umane si sono sempre legate alle zone umide ci sono moltissimi fontanili le cosiddette marcite o come abbiamo al lago Albano villaggi su palafitte quindi abbiamo tutta una storia che passa per le zone umide tante cose nei castelli romani questo già l'avevamo visto in parte durante il webinar sulla difesa della fauna c'è da dire che le zone umide dei castelli romani sono tutte incluse all'interno delle emergenze ambientali infatti questa è l'ultima mappa che abbiamo pubblicato di tutte le emergenze ambientali dei castelli romani che è stata realizzata dal coordinamento a natura e territorio di cui fanno parte decine di associazioni ambientaliste e naturalistiche dei castelli romani con la collaborazione del gruppo operativo Eco Team con cui abbiamo realizzato questa mappa dove ci sono non solo appunto le discariche o le zone inquinate ma tutte le zone che appunto hanno bisogno di una particolare salvaguardia ricordiamo anche che proprio per la difesa delle falde e dei laghi da settembre del 2020 è partita un'iniziativa molto importante che è il processo per realizzare il contratto di lago e di falda un processo che è partito grazie all'AIPI nell'Associazione Italiana Ingegneria Naturalistica e l'azienda GenBuild di Albano Laziale che con Ettore Marrone ha realizzato tutta la struttura e ha organizzato tutti i webinar che abbiamo realizzato ogni giovedì da settembre a oggi l'abbiamo concluso questo ciclo di webinar solo la settimana scorsa perché da adesso in poi ci stiamo dedicando proprio alla scrittura e alla firma del contratto di lago e di falda uno strumento tecnico giuridico che ci permette di mettere in campo azioni concrete per la difesa dei laghi delle zone umide delle falde dei castelli romani inoltre ricordiamo l'iniziativa Riforestiamo i Castelli Romani l'iniziativa portata avanti da volontari in collaborazione col Parco dei Castelli Romani per la coltivazione di alberi e arbusti autoctoni anche che vivono nelle zone umide oggi vedremo un po' una panoramica dei laghi e delle zone umide dei castelli romani vedremo i motivi e le cause dell'abbassamento del livello dei laghi e delle falde parleremo dell'inquinamento e parleremo anche di fauna e degli ecosistemi allora innanzitutto ricordo che il Parco dei Castelli Romani è un'area di particolare pregio naturalistico ambientale che grazie a una serie di iniziative popolari è arrivato ad avere una legge istitutiva e di protezione e dal 1998 anche una perimetrazione definitiva di questo ne abbiamo parlato già lungamente nelle puntate precedenti vi ricordo appunto che dopo un lungo periodo in cui gli ambientalisti hanno lottato per avere una perimetrazione definitiva hanno creato appunto il Parco dei Castelli Romani che nonostante tutte le difficoltà ambientali continua a difendere il territorio attualmente vi ricordo che tutto il territorio dei Castelli Romani è praticamente incluso all'interno della perimetrazione ma questa perimetrazione ha avuto un lungo percorso che è iniziato negli anni 70 e proprio negli anni 70 uno studi, diversi studi ma in particolare un libro un libro si intitolava Un parco naturale regionale dei Castelli Romani realizzato prima che il parco nascesse già riportava la situazione dei laghi sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista naturalistico e purtroppo anche dei problemi di inquinamento che già all'epoca c'erano in particolare il paragrafo che parlava del Lago Albano di questo libro questi capitoli erano stati realizzati da Anna Maria Duranti questi paragrafi parlavano per il Lago Albano di sporcizia nei boschi e di scariche quindi come vedete le cose non è che sono cambiate moltissimo purtroppo anche perché c'è stato un aumento del turismo in queste aree rispetto agli anni 70 la pressione dei locali sulle sponde è diventata sempre più importante e così gli scarichi fognari che finiscono nel lago nonostante è stata realizzata nel frattempo un collettore fognario e vediamo il pericolo dell'eutrofizzazione persistere sia nel Lago Albano sia nel Lago di Nemi Lago di Nemi era già stato oggetto negli anni 30 di un parziale prosciugamento era stato abbastato il livello di 20 metri quindi veramente molto questo per tirare fuori le famose navi di Nemi dopodiché il livello era stato ripristinato ma questo aveva già causato il passaggio da un livello oligotrofo eutrofo quindi con carenza di ossigeno a cui negli anni 70 con i vari fertilizzanti chimici che l'agricoltura sulle sponde del lago riversava sul lago stesso e gli scarichi sia di Nemi che di Genzano che all'epoca scaricavano direttamente dentro il lago e addirittura di Villa delle Querce che aveva nel 75 circa 1500 pazienti quindi era praticamente aveva un carico inquinante quasi simile a quello di Nemi nel 1975 il lago collassa collassa l'ossigeno disciolto e praticamente nel 76 dopo una serie di eventi come quello che fece diventare l'intero lago di Nemi fin e rosso a causa di questa alga rossa di cui poi parleremo e nel 76 appunto ci fu una moria di pesci che distrugge distrusse praticamente tutto il ciclo biologico del lago di Nemi il lago i laghi le falde e tutte le zone umide dei castelli romani sorgono su un vulcano di questo già ne abbiamo parlato vediamo soltanto da un punto di vista idrogeologico quale sono un po' le differenze dei vari livelli di falda noi abbiamo innanzitutto una falda di tipo superficiale con piccole falde sospese che alimentano ad esempio il lago di Nemi e il pantano della doganella quindi stiamo parlando di falde che rimangono a qualche decina di metri di profondità poi c'è una circolazione sotterranea intervallata da strati impermeabili che sono comunque alimentati da acque meteoriche questi prima dei 100 metri di profondità il lago Albano in parte era alimentato da queste falde e poi una circolazione più profonda sopra i 100 metri che è contenuta nell'ammasso lavico e che è praticamente il posto dove attualmente i pozzi comunali o di altro tipo attingono quindi falde più profonde falde dove l'acqua è addirittura di tipo fossile perché è intrappolata in queste rocce da migliaia di anni un'acqua che non dovrebbe essere utilizzata ma che invece purtroppo lo è una volta ai castelli romani c'erano più di 84 sorgenti di acqua mineralizzate quindi era un'area ricca di d'acqua e soprattutto anche di acqua di una certa qualità perché appunto c'erano queste acque mineralizzate e in alcuni casi anche acque con dell'anidride carbonica disciolta che la rendevano leggermente frizzante come una famosa sorgente dell'acqua acetosa al lago Albano che purtroppo praticamente non esiste più già avevamo parlato a suo tempo del fatto che purtroppo prima che la perimetrazione definitiva del parco di castelli romani fosse adottata e rispettata l'edilizia ha creato tutta una serie di zone di sviluppo come questa tra Marino e Frascati quella dei campi inandibale dei piani di Cagliano e altre zone compresa anche l'abusivismo diffuso di Valle Ariccia proprio nei punti purtroppo delle aree alluvionali che sono importanti per per tutto il sistema idrogeologico dei castelli romani quindi non solo sono stati distrutti boschi e zone agricole ma viene impedito all'acqua di arrivare nelle falde e questo da un punto di vista appunto idrogeologico è molto importante qui vediamo in questa foto satellitare queste strisce verdi che sono praticamente i fossi che sono rimasti ne vedremo alcuni importanti addirittura ci sono due bacini idrografici che una volta creavano dei fiumi anche storicamente importante come l'almone o l'incastro che ormai sono diventati praticamente delle fogne a cielo aperto e la cui portata di acqua si è ridotta di molto negli ottimi decenni i castelli romani erano da sempre un'area particolarmente ricca di acqua e questo anche da un punto di vista storico lo possiamo vedere tant'è che abbiamo addirittura uno dei pochi villaggi su palefitte d'Italia al lago Albano e vediamo da questa mappa del 1840 dove veniva evidenziato non solo il lago Albano e il lago di Nemi ma anche il lago Aricinus praticamente Valle Riccia il lago Vivaro la valle Marciana il pantano Borghese il lago di Castiglione e anche il lago di Giulianello quindi si vede che praticamente era un'area molto molto ricca di acque addirittura già in epoca preromana erano state realizzate sia per opere di bonifica sia per l'attingimento di acqua tutta una serie di conicoli alcuni anche lunghi più di un chilometro oltre ai famosi emissari che furono conclusi o realizzati durante l'epoca romana ecco questa potrebbe essere la foto satellitare se ancora le risorse idriche dei castelli romani fossero integre vedete qui in questa foto sovrapposto quelli che avrebbero dovuto essere tutta una serie di laghi che ora non ci sono più e anche addirittura di fiumi che portano l'acqua dai castelli romani in tutte le zone circostanti verso il Tevere verso il mare e verso il bacino del fiume Sacco ecco sarebbe stata come vedete una realtà molto differente molto più ricca di natura molto più ricca appunto di vita gli emissari che furono costruiti soprattutto per la regolazione delle acque e per l'utilizzo agricolo infatti durante l'epoca romana o ancora prima preromana di certo non si potevano fare dei pozzi con delle pompe per attingimento di acqua quindi si utilizzavano i bacini naturali per poi portare quest'acqua nei villaggi nei paesi e nelle zone agricole in alcuni casi venivano utilizzati per eliminare l'acqua per consentire l'agricoltura quindi c'erano anche i cosiddetti opere di bonifica ma in realtà era tutto progettato per utilizzare solo la differenza di livello dei laghi delle zone umide che permetteva di differenze di pioggia tra estate e inverno quindi tutto sommato era un sistema di tipo sostenibile qui vediamo per esempio la foto del lago della Domenella del 1908 che è esistito fino al 38 quando invece è stato completamente prosciugato per realizzare pascoli e l'allevamento altra foto invece del lago Albano come vedete completamente senza nessuna costruzione qua invece già cominciamo a vedere qualche costruzione si comincia a costruire intorno ai laghi inizia un turismo che è un turismo diciamo all'inizio solo dei paesi dei castelli romani poi via via anche di Roma qua vediamo la famosa la playa completamente dentro l'acqua come lo era sempre stato prima che il livello si era abbassato vediamo dei villeggianti che si mettevano a prendere il sole lungo le strade e sulle rampe dove che venivano utilizzate per far scendere le barche per la pesca qui vediamo già qualche anno dopo nel 56 si cominciano a costruire delle strade il bosco scompare ci sono i lampioni viene realizzato un muro di contenimento in maniera che ci potessero essere minimamente la possibilità di usufruire del lago quindi delle sponde e vediamo ancora la flora ripariale ontani e salici che sono lungo le rive dei laghi qua invece già qualche anno dopo si comincia a costruire il molo e tutta la zona per le gare che erano previste per le olimpiadi i famosi tripodi che venivano utilizzate utilizzati per tirare le corde per fare le corsie per le gare altra foto dove già vediamo realizzato tutto il sistema per i giudici appunto per le gare e sempre i tripodi che come vedete sono completamente sott'acqua e vediamo che ancora esiste una clora ripariale qua vediamo un salice qua vediamo degli ontani oltre ai laghi vi parlavo prima di questo fiume il fiume Almone che era un fiume che partiva praticamente dalle zone sotto i campi d'Annibale in realtà moltimente c'erano più di una sorgente che alimentava questo bacino forse addirittura con delle zone che partivano diciamo dei rami che partivano da altre parti e che poi però finivano sul Tevere in realtà tutta la parte qui vicino ai castelli romani ormai completamente in secca proprio perché la riduzione del livello delle falde idriche ha praticamente essiccato tutta questa parte del fiume Almone e ormai si ritrova soltanto qui alla Caffarella e lungo il parco dell'Appia Antica altra zona importante è il fosso dell'Incastro una volta è un vero e proprio fiume poi è diventato un fosso che alcune volte addirittura è privo di acqua e qui vediamo anche tanti altri fossi che vanno verso Aprilia e arrivano verso Cisterna e che vengono alimentati praticamente da le falde del monte Artemisio e in parte dalle zone del lago di Nemi qui vediamo una foto della doganella che è uno dei siti di importanza comunitaria dei castelli romani quindi un sito che dovrebbe essere particolarmente protetto perché è appunto indicato come uno delle zone umide importanti a livello europeo e poi ci sono tanti piccoli innumerevoli stagni nei boschi di cui molti si sono perse ormai le tracce ce n'era addirittura uno proprio dietro al bosco del cercuone importante per gli anfibi di cui appunto ormai non ce n'è più traccia qui vediamo altre zone umide questo è uno dei fossi che passa dentro la Nuvio uno dei due fossi importanti purtroppo uno è stato lasciato fuori dalla perimetrazione del parco della precedente amministrazione comunale quella attuale sta come vedete in questa foto attuando non so che tipo di progetto che però già ha visto l'abbattimento di numerosi alberi naturali e la capitozzatura di queste querce e di questi bagolari tant'è che c'è penso un processo di indagine in corso e questo è uno dei fossi che ospitava una flora particolare di lauri e querce che dovrebbe essere protetta qui vediamo un particolare del fiume qui in alto a sinistra del fiume che passa dentro parco colonna marino e questa è la famosa invece qua a destra in alto fontan tempesta famosa per questo bacino e per la sorgente un po' meno famosa per questo stagno che purtroppo ogni tanto qualcuno pensando di fare bene elimina spesso è capitato che qualcuno appunto ha scavato un fosso per portare via l'acqua però così facendo praticamente ha rischiato di distruggere tutti gli anfibi che qui tornano per deporre le loro uova e purtroppo qui vediamo alcune foto dei fossi e dei laghi che praticamente purtroppo sono sempre più oggetto di discariche e di inquinamento questo vediamo è uno dei fossi che va verso Ardea fu denunciato molti anni fa dal nostro gruppo ambientalista e vedete veramente una discarica enorme questa invece è quella proprio sul bordo del lago di Nemi proprio davanti al museo delle nave romane questo è invece uno dei fossi di Lanuvio e anche questa foto è appunto del fosso di Lanuvio come vedete discariche che poi finiscono proprio nell'alveo del fiume qui sempre altri alve di fiume questo è il fiume dell'incastro il bacino dell'incastro come vedete quest'acqua così chiara è perché ha una concentrazione di detersivi e detergenti molto alta qua abbiamo fatto un particolare dei prelievi chimici questo è il parco Colonna ormai l'alveo del fiume è praticamente ricoperto da rifiuti edili ci sono terracotte calcinacce e quant'altro quasi tutto l'alveo del fiume purtroppo è ormai ricoperto di questi rifiuti qua vediamo sempre a parco Colonna rifiuti plastici che vengono buttati a monte e poi l'acqua porta a valle inquinando tutto il torrente tutto il fiume questo invece è il fosso che della doganella scende verso Carchitti anche questo come vedete la discarica pian piano viene dilavata dalle acque e finisce nel fiume quindi purtroppo proprio le zone umide i fossi i laghi sono tra quelli più colpiti da le emergenze ambientali tant'è che molte delle segnalazioni che abbiamo messo come coordinamento a natura e territorio dei castelli romani all'interno di questa mega denuncia che abbiamo fatto mappando oltre 200 discariche molte di queste discariche purtroppo l'abbiamo trovato proprio nei fiumi in alcuni casi abbiamo trovato sistemi che sversavano acqua e liguami nei fossi tant'è che tutta una serie di espossi che abbiamo fatto al corpo forestale scusate ai carabinieri forestali e appunto ci sono una serie di indagini in corso anche su questo ora vediamo una delle problematiche una delle emergenze ambientali più grandi dei castelli romani che è proprio quello dell'abbassamento del livello dei laghi e delle falde allora innanzitutto voglio spiegare come qual è stata la storia pure dell'impegno ambientalista che partì addirittura prima che il livello dei laghi fosse evidentemente più basso perché in realtà già in particolare la locale sezione del WWF si accorse che le sorgenti sui monti sul monte Artemisio e sulle falde e scusate sui monti delle sui monti intorno a Rocca di Papa le faete scusate non ricordavo il nome i monti delle faete sull'Artemisio le sorgenti cominciavano a scomparire cominciavano a scomparire i microtorrenti che una volta c'erano e in particolare scomparivano partendo dall'alto verso il basso e quindi da qui si cominciò a presumere che molto probabilmente quello che stava succedendo era l'abbassamento di tutte le tutti i livelli piezometrici delle falde i livelli piezometrici erano appunto il livello di pressione dell'acqua nel sottosuolo questo livello quando arriva in superficie crea i fiumi o i laghi e quindi avevamo già capito prima addirittura che il livello dei laghi cominciasse a scendere realmente che sarebbe successo da lì a poco qualcosa infatti mi ricordo quando un ultimo anno osservammo che la sorgente dell'acqua ecetosa al lago Albano non emetteva più acqua ma solo gas carbonico praticamente avevamo capito che da lì a poco il livello del lago Albano avrebbe cominciato ad abbassarsi le prime denunce proprio fatte dal VVF sono state del 1988 a cui seguì nel 1990 una grande campagna di denuncia e l'epoca il lago Albano era sceso solo di un metro nel 96 finalmente la provincia di Roma intervenì facendo i primi dilievi i primi studi e chiedendo alla regione Lazio una normativa di protezione delle falde idriche dei castelli romani purtroppo questa legge questo sistema di protezione è rimasto sulla carta tant'è che appunto il livello del lago ha continuato a scendere questo proprio su dati che ha dato il VVF confermati dalla provincia di Roma nel 97 fa vedere il lago di Nemi come si era abbassato c'è da rilevare per esempio che questa linea continua in realtà naturalmente non dovrebbe essere stata così è continua solo perché praticamente si era scoperto che l'ufficio che doveva prendere le misure del lago di Nemi non lo faceva ormai da anni e quindi in realtà qui non avremmo avuto un grafico piano per poi scendere in maniera diciamo così netta ma sarebbe dovuto scendere negli anni 80 fino appunto ad arrivare a queste misure che ricominciò proprio il VVF a fare tant'osa è questo grafico è il primo che fu fatto per verificare se non fosse il problema nella piovosità e quindi vedete questo grafico delle piogge fu confrontato col grafico del livello però vedete che le piogge sono rimaste praticamente in media le stesse mentre invece appunto il lago di Nemi è sceso in maniera molto forte stessa cosa per il lago Albano sempre confronto tra le piogge e appunto il livello si vede che la variazione annuale naturale tra fine estate e fine primavera normalmente va dai 20 ai 50 cm a un certo punto questa variazione naturale invece comincia praticamente a a diciamo a a non esserci più e comincia a scendere sempre sempre di più nel 97 era sceso di un metro e di un metro e venti un metro e quaranta ormai siamo a oltre sette metri qui vediamo i grafici che i volontari del WWF avevano cominciato a fare mese per mese anche per capire quale poteva essere dell'andamento stagionale del livello dei laghi che come vedete ha un andamento più alto durante fine fine inverno e poi si abbassa durante l'estate e logicamente perché piove meno e poi c'è maggiore antidicimento dovuto all'agricoltura e e questo alternarsi di livelli tra estate e inverno che i romani utilizzavano per attingere l'acqua invece noi attingendo con i pozzi abbiamo fatto che praticamente questo livello si è abbassato sempre di più anno dopo anno stessa cosa sempre grazie ai volontari del WWF che mensilmente andavano a prendere le misure c'è da dire che gli idrometri che erano presenti in entrambi i laghi ormai da tempo non erano più dentro l'acqua quindi i volontari del WWF avevano dovuto realizzare un proprio idrometro per per fare queste misure qui vediamo perché poi appunto abbiamo continuato fino praticamente all'altro ieri a misurare il livello dei laghi vediamo il lago Albano che appunto dal livello zero gli anni sessanta arriva fino agli anni ottanta dove comincia a esserci una prima deviazione dal livello medio per poi pian piano proprio negli anni ottanta cominciare a scendere sempre più attualmente e a sette metri e mezzo in meno del livello si può annovatare appunto che rispetto al livello medio dell'acqua qua c'è stato un transiente eventualmente pure dovuto a un'annata di piogge piuttosto scarsa però poi è stato appunto l'elevato consumo di acqua delle falde che ha cominciato a far scendere anno dopo anno il livello logicamente a questo punto ci si è chiesti da cosa dipendeva non dipende dalla pioggia come vedete qui il grafico l'abbiamo aggiornato fino ai giorni nostri e la quantità media di pioggia annuale è rimasta mediamente la stessa che ha aumentato molto è la popolazione negli anni 50 ci fu come vedete da questo grafico un aumento della popolazione poi negli anni 90 la stessa popolazione che comunque continuava a aumentare ha aumentato anche la sua impronta ecologica quindi non solo eravamo di più ma tendenzialmente consumavamo più risorse quindi vedete che il grafico dell'impatto della popolazione sul territorio è aumentato e logicamente di conseguenza si sono abbassati i livelli dei laghi e delle falde qui infatti vediamo da uno degli ultimi studi dell'ISPRA sul consumo del suolo che la nostra zona qua cerchiata di blu è praticamente una delle zone da più alto consumo del suolo d'Italia e qui vedete tutti i puntini rossi sono appunto le zone dove si è cementificato di più infatti la nostra zona come vedete è piuttosto ampia e cementificata abbiamo detto che le piogge attualmente non sono la causa che ha fatto abbassare l'acqua dei laghi e delle falde però sicuramente i cambiamenti climatici causeranno un peggioramento di questa cosa perché anche se la quantità media rimarrà costante forse addirittura in alcuni casi pioverà un pochino di più a causa dei cambiamenti climatici però questa pioggia non sarà più costante durante l'anno sarà praticamente assente per sei mesi l'anno per poi riversarsi tutta insieme gli altri sei mesi creando molti problemi perché aumenterà l'evapotraspirazione durante il periodo estivo aumenterà la temperatura sempre nel periodo estivo aumenterà il ruscellamento sulle strade le aree ormai resi impermeabili di asfalto e cemento e quindi la quantità di acqua che arriverà nel sottosuolo sarà sempre meno torniamo ai laghi qui vediamo appunto una foto del 75 dove si vede il livello naturale del lago vediamo qui chi la conosce questa è la playa che era completamente all'interno dell'acqua qui in questa freccia si vedono i tripodi realizzati per le olimpiadi e qua invece vediamo la situazione oggi quindi confronto dal 75 a oggi il livello del lago si è abbassato di 7 metri creando un fronte di spiaggia che ormai è oltre 100 metri in alcune aree e qui infatti vediamo una foto con i nuovi stabilimenti balneari che hanno invaso queste zone che si sono create e vediamo i tripodi completamente all'asciutto se vi ricordate le foto invece della serie storica l'acqua ovviamente arrivava in questa parte e quando pioveva tanto in inverno arrivava a lambire la piattaforma infatti qui vediamo dal confronto che ha fatto Ettore Marrone dell'Aipin si vede benissimo la foto degli anni 70 con i tripodi completamente sommersi è una foto di settembre 2020 ultima misuruzione di settembre 2020 e quella che fa da riferimento tra estate e inverno è meno 7 metri e 24 in tutto nel solo lago Albano mancano 40 milioni di metri cubi ha perso in media circa un milione di metri cubi l'anno con addettura picchi di 3 milioni di metri cubi più o meno si abbassa dai 20 ai 30 centimetri l'anno rispetto alla pluviometria quindi il prossimo anno ci aspettiamo che a settembre sia di 7 metri e mezzo o addirittura oltre ricordiamo che il lago Albano come il lago di Nemi d'origine vulcanica l'abbiamo visto in uno delle primi primi webinar attualmente ha un volume di 450 milioni di metri cubi però già 40 milioni di metri cubi sono spariti in particolare è sparito quasi il 10% del totale e logicamente essendo un cono rovesciato la maggior parte dell'acqua è nei primi metri quindi sono i primi metri che appunto contengono la maggior parte dell'acqua perché man mano che andiamo giù nella batimetria vediamo che diventa la superficie molto minore il lago è profondo 160 metri questo è l'ultimo studio che è stato fatto negli anni 2000 della batimetria del lago logicamente come si vede anche da questa foto si cominciano a vedere le strati più profondi e chi ha frequentato il lago come me fin da bambino vede una cosa particolare che premente è scomparsa completamente le piante acquatiche cosa che vedremo poi successivamente tra le altre cose l'aumentare delle spiagge con l'abbassamento del livello dei laghi ha creato delle aree che sono state rinaturalizzate però in alcuni casi sono state anche date in gestione ad alcuni stabilimenti e vediamo che anche nella gestione degli stabilimenti abbiamo delle diversità questo per esempio è uno stabilimento particolarmente conosciuto perché chi ha preso in gestione quest'area come vedete la mantiene naturalmente verde proprio per sua scelta gli altri invece hanno praticamente eliminato tutti gli alberi questa invece è una zona che dovrebbe essere sottoposta a vincolo archeologico perché la sede probabilmente questo era il luogo del famoso villaggio delle macine il villaggio palafitticolo e qui ci dovrebbero essere tutti quanti i pali delle palafitte che ancora si vedono però come vedete viene raso al suolo periodicamente addirittura ultimamente quest'area gli hanno dato fuoco per eliminare il fragmiteto che si è creato naturalmente cosa gravissima perché può rovinare un villaggio che ha oltre 4.000 anni di storia adesso ci sono stati dei problemi in quest'altra zona naturale perché sembrerebbe che alcune persone vogliono eliminare questo verde che naturalmente si è riformato per appunto il fatto che l'acqua si abbassa quindi la natura riprende ricreando fragmiteti ricreando tutta la successione di salici ontani e altre piante però c'è una spinta a eliminare tutto e questo insomma è abbastanza grave in realtà questa è una zona che non andrebbe assolutamente toccata e qua invece già vedete che ci sono dei tagli si è eliminato appunto della vegetazione e qui vediamo che sono state realizzate delle opere sono state realizzate delle opere per appunto permettere a questi stabilimenti ed è insomma una cosa che dovrebbe in qualche maniera essere limitata dovrebbe essere anzi vietata in questa zona perché agli stabilimenti gli è stato dato queste aree e però logicamente man mano che si abbassa se ne creano altre quindi evidentemente qualcuno ha la mira di potersene impossessare in qualche modo infatti qua vediamo proprio le cose che sono state dette negli ultimi giorni questa è appunto l'aria che viene rinaturalizzata ora logicamente io non sto giustificando il fatto che la vegetazione addirittura arrivi sui marciapiedi nessuno sta dicendo questo né d'altronde sto giustificando queste persone che lasciano rifiuti sparsi nel terreno questa è questa la vera immondizia però ci sono persone non abituate evidentemente alla vita naturale o forse che hanno altre mire che vogliono che tutti questi erbusteti questi roveti e queste piante autoccone autoccone fossero eliminate mentre invece dovrebbe essere presente solo dei sentieri per appunto poter attraversare questa ormai bellissima zona rinaturalizzata che in realtà è anche molto simile a quello che c'era prima lungo le coste dei laghi solo che era molto meno ampio però più o meno la vegetazione è la stessa quindi sicuramente eliminare i rifiuti sicuramente pulire i marciapiedi ma di certo non bisogna toccare queste aree che si sono rinaturalizzate logicamente il problema non è solo i laghi non è solo appunto riduzione diciamo della quantità di acqua nei laghi il problema il pericolo è che tutte le falde si stanno abbassando tant'è che i pozzi anche comunali da rimanere intorno ai 60 80 metri ormai arrivano anche a 300-400 metri se non di più addirittura alcuni arrivano sotto il livello del mare cioè probabilmente dai castelli romani partono dei pozzi che arrivano a un livello che è paragonabile a quello del livello del mare quindi al livello delle spiagge di Torbaglianica e questo è anche molto grave perché se noi eliminiamo l'acqua dolce il mare comincia a penetrare nelle zone dell'entroterra rendendo le falde ricche di sali minerali appunto salate qua sono alcuni dei primi dati che vennero fuori dall'analisi del bilancio idrico che fanno vedere come l'acqua della pioggia praticamente ormai non riesce più a coprire i bisogni sia uso civile industriale o agricolo perché abbiamo solo 33 milioni di metri cubi l'acqua all'anno e soltanto l'acquedotto della Doganella ne tira fuori 39 quindi già l'acquedotto della Doganella è fuori della quantità di acqua che l'acqua diciamo che la pioggia ricarica naturalmente quindi e poi da questi dati del 2000 ci sono dati anche più recenti del 2005 poi del 2011 del 2015 che fanno vedere che ormai praticamente abbiamo superato il livello della ricarica naturale delle piogge perché l'acqua viene dal cielo quindi noi le falde idriche l'acqua potabile l'acqua dei fiumi e dei raghi viene dalla pioggia se poi noi cosa facciamo? beh rispetto a una realtà naturale quello che succede è che praticamente copriamo il terreno quindi aumentiamo il ruscellamento verso il mare captiamo con i pozzi e la maggior parte dell'acqua che finisce in falda quest'acqua poi viene utilizzata e diventa inquinata perché poi finisce utilizzata quindi negli scarichi e nelle fogne quindi la prendiamo pulita la ridiamo sporca e va direttamente al mare quindi abbiamo rotto questo equilibrio l'abbiamo rotto talmente tanto che ormai si stima siamo a oltre il 110% la ricarica naturale quindi utilizziamo il 10% in più di quello che la natura ci mette a disposizione e quindi svuotiamo le falde tant'è che come dicevo prima i pozzi ormai captano l'acqua fossile cioè l'acqua che si è accumulata in migliaia se non decine di migliaia di anni logicamente l'acqua noi la utilizziamo per tre usi principali l'agricoltura l'industria e gli usi civili ogni zona dei castelli romani ha più uno rispetto all'altra però più o meno tutte quante hanno superato il livello della ricarica naturale dovuta alle piogge e abbiamo assistito come dicevo prima non solo alla scomparsa delle sorgenti ma anche al fatto che i torrenti e i fossi ormai non sono più pieni di acqua anzi spesso contengono liguami provenienti dalle fogne e il livello dei laghi delle zone umide si è abbassato sempre di più le strade pure incidono in tutto questo perché intercettano l'acqua piovane la portano via come se fossero dei fiumi però dei fiumi che appunto non hanno una percolazione verso gli strati sotterrani ma portano l'acqua proprio via rispetto al territorio noi abbiamo questi grandi bacini idrici che purtroppo come abbiamo visto prima vengono intercettati dalle strade vedete proprio la fuscolana e la strada dei pratoni del vivaro e la via dei laghi che praticamente intercettano tutta la ricarica del bacino e la portano via nei giorni di pioggia mentre invece dovrebbe rimanere naturalmente nel suolo creando zone umide come quella del pantano della doganella che gli permette all'acqua pian piano di entrare nel sottosuolo invece di essere dilavata via velocemente e come vedete proprio due delle zone più costruite dei castelli romani all'interno del perimetro del parco dei castelli copre quasi veramente intero l'area alluvionale dei pratoni del vivaro questo è la zona del sito di importanza comunitaria una parte perché il resto è il bosco del cercuone anche qui vedete in questa zona c'erano dei piccoli laghi che ormai non esistono più il pantano della doganella ora esiste solo in quest'area l'acqua diciamo ora è intercettata da un sistema di fossi che sta qui e che scende verso Carchitti a suo tempo i romani fecero degli sbarramenti che appunto servivano poi per far defluire o meno l'acqua verso le zone agricole ormai purtroppo proprio questa zona l'abbiamo mappata in maniera molto molto dettagliata è una di quelle zone che abbiamo visto prima con le foto sono piene di rifiuti infatti questo fosso ormai è veramente molto inquinato perché i rifiuti dali di scariche poi quando piove finiscono nel torrente e poi il torrente l'acqua riporta sempre più giù a valle logicamente qui non si tratta semplicemente di immettere l'acqua nei laghi come dice qualche politico fantasioso che voleva prendere l'acqua del Tevere e immettela nei laghi questo non creerebbe altro che distruzione completa dei cicli biologici perché non puoi prendere l'acqua che naturalmente in bilancio idrico e biologico e biochimico di un'area e portarle in un'altra ma quello che dobbiamo fare è piano piano ricostituire tutto il sistema idrico dei castelli romani consumare meno acqua anche perché dagli studi viene fuori non solo che ne consumiamo consumiamo tanta perché siamo tanti come come popolazione rispetto alle capacità ecologiche del territorio ma anche perché ne consumiamo troppa pro capite cioè abbiamo un consumo pro capite dei castelli romani che premente il doppio di quello nazionale quindi evidentemente abbiamo ampi margini per ridurre i consumi oltre al fatto che già solo le perdite degli acquedotti quasi equivalgono le perdite dei due laghi quindi già diciamo eliminando le perdite degli acquedotti già potremmo in qualche maniera aiutare di molto i laghi quello che bisogna fare è appunto non prendere acqua da qualche parte magari inquinata ma o anche semplicemente non inquinata ma con delle biomasse batteriche ambientali o di sali diversi da quelli dei laghi che appunto potrebbe addittura diventare un inquinamento ma fare un piano in maniera che pian piano l'acqua si ripristina e in cinque o dieci anni i laghi si possano ripristinare da tondi i laghi tutte le zone umide non sono dei semplici pozzanghere non sono solo dei contenitori di acqua ma sono dei sistemi molto complessi molto complessi che vedono cicli chimici biochimici biologici integrarsi fra di loro le zone umide sono fra le più complesse tante cose come dicevamo prima anche hanno un ruolo filtrante addirittura eliminano gli inquinanti per le loro capacità di assorbire alcuni di questi inquinanti e creano delle aree appunto più sane quindi l'esistenza delle zone umide è molto molto importante invece quello che abbiamo fatto negli anni è quello di abbassare il livello e inquinare le acque in particolare tornando ai laghi il lago albano ha degli inquinamenti soprattutto provenienti dagli scarichi civili da alcune appunto da alcuni stabilimenti da alcune da alcuni locali ma anche da case non allacciate alle fognature e infatti vediamo un aumento della zona ammoniacale che è di solito e di origine appunto civile con dei massimi proprio ad agosto le condizioni trofiche in generale sono in peggioramento al lago albano come con causa abbiamo l'abbassamento ma anche la distruzione della flora ripariale in particolare sono mancati sempre di più i fragmiteti gli lontani e i salici l'antrose lontano è una pianta è un albero che vive proprio dentro l'acqua un po' come le mangrovie ha una capacità di assorbimento di CO2 dello stoccaggio di CO2 enorme e tra le sue radici i pesci di solito facevano i nidi stessa cosa per i fragmiteti quindi la loro scomparsa elimina anche la capacità della fauna ittica di riprodursi il lago di Nemi invece l'inquinamento è soprattutto proveniente dall'agricoltura perché ormai le fognature della villa dei Guerci di Nemi di Gensano vanno al depuratore forse qualche casa che abbiamo visto nascere più o meno legalmente all'interno del bacino sicuramente incide anche essa però abbiamo visto che abbiamo un aumento dell'azodo di tipo organico che di solito appunto proviene dai fertilizzanti in maggio quindi evidentemente l'origine è soprattutto agricolo anche il lago di Nemi il peggioramento dei condizioni idrofiche è piuttosto evidente ci sono studi oltre quelli degli anni 70 anche nel 2000 2003 2005 adesso addirittura c'è un progetto europeo più l'Istituto Superiore di Sanità che continua a monitorare ultimamente proprio durante i webinar organizzati per il contratto di falde di fiume un esponente dell'Istituto di Sanità ci ha parlato in particolare delle alghe rosse sono queste alghe che praticamente consumano l'ossigeno e vivono soprattutto quando gli inquinanti azotati di fosforo sono presenti nell'acqua e praticamente queste alghe quando muoiono rilasciano delle tossine che sono addirittura oncogene quindi possono creare dei tumori anche all'uomo si è parlato anche del fatto che gli stessi pesci possono essere pieni di queste tossine quindi anche mangiare i pesci provenienti da questi laghi potrebbe essere un problema di tipo sanitario la fioritura in particolare dell'alga rossa principale planton trix rubescians è ormai sempre più evidente non solo ma poi quei cambiamenti climatici stiamo verificando che avvengono più di una fioritura l'anno una volta avveniva solo una fioritura adesso avviene una fioritura sia durante il pieno inverno sia a febbraio e addirittura addirittura a marzo in alcuni casi e questo appunto dipende un po' dai cambiamenti climatici ma anche dal fatto che i principali inquinanti rimangono nelle acque e tante cose proprio uno studio che avevamo fatto al lago di Nemi fa vedere come appunto le sostanze organiche addirittura la vitamina B il boro presente in alcuni detergenti e l'azoto e il fosforo aumentano la popolazione delle alghe cianofinee a partire queste alghe rosse che abbiamo detto prima quando poi muoiono rilasciano delle tossine molto pericolose che uccidono le alghe verdi e le diatomè che sono naturalmente presente nei laghi uccidono la vegetazione sommersa e aumentano lo zooplankton in particolare quello che favorisce le parassitosi quindi distrugge le alghe verdi la vegetazione sommersa e le diatomè e aumenta invece i parassiti a lunga andare l'ossigeno viene tutto quanto completamente consumato aumenta la quantità di fosfati di ammoniaca e di idrogeno solforato addirittura aumenta il metano da fermentazione aerobica profonda aumenta in superficie l'alcalinità e la silice disciolta a causa della morte dell'ideatomè aumenta poi la quantità di ipoclorido di attività umana che non viene neanche più appunto distrutto dalla vegetazione ripariale e tutto questo crea come già successo negli anni 70 l'alterazione del pigmento della fauna presente nei laghi noi vediamo sempre più spesso pesci malati con delle macchie dei tumori sulla pelle e queste malattie piano piano portano alla moria dei pesci tant'è oltre a questo c'è anche il fatto che vedremo successivamente che abbiamo anche delle popolazioni non indigene di pesci che hanno comunque rotto l'equilibrio appunto della fauna sotterranea quando abbiamo parlato della fauna dei castelli romani abbiamo detto che nei castelli romani ci sono 32 specie di mammiferi 110 di uccelli 20 di rettile anfibi e una ventina di pesci qui vediamo un po' della fauna che vive dentro intorno le zone umide dal falco pellegrino che vive al lago Albano lungo le rupi a l'erone cenerino la garzetta addirittura le cicogne sono di passo e si fermano ai pratoni del vivaro e alla tocanella ci sono una serie di rettili che vivono dentro e fuori l'acqua e intorno alle rive abbiamo gli anfibi proprio adesso stiamo finendo la campagna in difesa degli anfibi che facciamo ogni anno perché poi ne parleremo in dettaglio qui vediamo una rana rossa una rana dalmatina che normalmente vive nel bosco come fanno anche i rospi e che poi si riproducono negli stagni qui vediamo una raganella qua vediamo il luccio una delle poche specie indigene dei laghi la tinca qui vediamo un tritone e qui vediamo un piccolo tritone che viene catturato da una larva di titisco infatti sono importanti anche gli insetti che vivono nelle zone umide tant'è che molta di questa fauna vive proprio grazie alle zone umide dei castelli romani tutti i pesci ovviamente anche se della ventina di specie che sono state censite la maggior parte purtroppo sono state introdotte quindi sono pesci all'ortoni che hanno causato anche una rottura ulteriore dell'equilibrio biologico ecologico dei laghi sono state introdotte soprattutto per la pesca in maniera così molto poco scientifica e hanno causato logicamente la distruzione di alcune popolazioni invece di fauna ittica autoctona locale praticamente tutti gli anfibi sono legati alle zone umide anche alcuni rettili in generale però le zone umide sono importanti anche per gli uccelli e non solo quelli ripariali e proprio tipiche delle zone umide ma in generale perché comunque sono zone ricche di vita di biodiversità e quindi danno cibo anche a mammiferi danno cibo anche agli uccelli predatori purtroppo l'abbassamento del livello dei laghi ha distrutto proprio quella flora che dicevo prima in particolare ci sono proprio delle piante no alghe proprio piante acquatiche quindi delle piante che vivevano lungo le rive entro i 10 metri di profondità con l'abbassamento dei laghi e con la distruzione della vegetazione ripareale ormai sono praticamente estinte stessa cosa per i fragmiteti in realtà il lago di Nemi ne ha un pochino di più perché appunto è stata meno colpita dall'utilizzo delle rive per gli stabilimenti anzi ovviamente non sono presenti giusto qualcuno che si è creato un po' una casetta più o meno legale proprio in riva al lago che ha distrutti i fragmiteti però per il resto è abbastanza integro a parte quella enorme discarica che vi ho fatto vedere prima proprio davanti al museo del lago di Nemi che invece proprio è una delle zone addirittura quella è la zona dove sfocia il fosso di fontan tempesta quindi immaginate l'importanza e la distruzione che quella discarica negli anni ha portato tanto se quella discarica esiste da una decina d'anni e solo ultimamente abbiamo visto che qualcuno la sta bonificando speriamo in maniera definitiva e quindi veramente l'utilizzo delle cosse l'abbassamento del livello dell'acqua ha distrutto sia la flora che vive sott'acqua entro i dieci metri ma anche quella proprio ripariale come appunto i fragmiteti o gli alberi di ontano che appunto dicevo sono importantissimi perché sia i fragmiteti che gli alberi di ontano creavano dei micro habitat per per la riproduzione non solo degli anfibi ma anche dei pesci e degli insetti ma non solo è importante come dicevo prima anche quella flora che sta subito dopo il fragmiteto che è fatta da sambuchi che è fatta da salici e di altre piante anche i rovi che molti vorrebbero tagliare e distruggere non so per quale motivo gli danno proprio fastidio i rovi invece il roveto è uno degli ecosistemi più importanti perché protegge molte specie di uccelli e protegge anche la la microfauna oltre ad avere un ruolo come anche come come diciamo zona di diciamo di depurazione e di controllo delle acque logicamente vedete che come si vede in questa slide nessun ecosistema è slegato dagli altri grazie alle foreste che si crea diciamo che si riduce innanzitutto l'evapotraspirazione si crea un deflusso naturale lento dell'acqua e piovane che poi attraversano le zone ripariali le zone arbustive entrano nei fiumi e nei laghi per poi finire pulita nei mari noi invece abbiamo interrotto tutto questo stiamo riducendo le foreste stiamo distruggendo gli arbusteti e le zone a prato stiamo distruggendo i fossi che ormai vengono quasi del tutto interrati e quindi non hanno più quella normale naturalità dicevo che ultimamente stiamo facendo delle segnalazioni uno dei fossi che percorre la Nuvio dove qualcuno sta addirittura distruggendo tutta la flora non si sa ancora per qualche motivo mentre hanno capitozzato querce di 80 anni bagolari e quant'altro che invece sono quelli importanti che reggono perché appunto non esiste un ecosistema che è disconnesso dall'altro problema che spesso non si conosce la natura di queste aree poi c'è ormai poi ne parleremo poi nell'ultimo incontro quando parleremo di ecosofia e di pornecologia di come ormai esiste addirittura una biofobia che poi con lockdown è diventata ancora più si acuita ancora di più cioè si ha una paura della natura trante cose anche a causa e per colpa di alcuni giornali che parlano di nuovo come nel settecento di una natura mostruosa che uccide i bambini i lupi che si mangiano gli umani e così via quindi anche queste cose di certo non fanno bene quindi conoscere la natura è importante trante cose una delle azioni che stiamo facendo come volontari oltre alla riforestazione e al controllo del territorio è stata proprio in questi mesi perché di solito inizia a febbraio è quello di salvare gli anfibi che vanno nelle zone umide a riprodursi qui vediamo trante cose una barriera che ha messo in azione il parco dei castelli romani proprio per evitare che in particolare i rospi o le rane dalmatine attraverso una strada vengono schiacciati con delle squadre di volontari ci mettiamo in alcuni posti ben particolari appunto per salvare questi animali e portarli nelle zone umide e ultimamente abbiamo fatto anche un aggiornamento della formazione perché è importante per fare queste cose sapere come fare perché a volte si potrebbero fare più danni di quelli che invece si vorrebbero risolvere quindi esiste tutto un sistema formativo per i volontari anche in collaborazione con i parchi esiste anche un sito web dove è possibile appunto censire tutti gli animali salvati che è stata fatta dalla LAV e da volontari del WWF quindi appunto esiste tutta una serie di azioni che stiamo portando avanti logicamente andrebbero fatte altre azioni importanti le vediamo velocemente perché insomma fanno parte anche di un diciamo di un corso a parte perché appunto come dicevo il problema non è solo quello dei laghi che si stanno abbassando e che stanno perdendo sempre più acqua ma in generale di tutti gli ecosistemi dei castelli romani di tutto il sistema idrogeologico dei castelli romani sicuramente un sistema di soluzioni deve essere adottato quindi non esiste la soluzione esistono sistemi di soluzioni sicuramente la riduzione dei consumi una di quelle con una campagna educativa permanente che perlomeno debba durare sette anni per abbassare dal 30 al 40% dei consumi pro capite sicuramente una delle azioni a più basso costo che addirittura come volontari ci stiamo apprestando a organizzare proprio perché ha bisogno solo della partecipazione dei cittadini non ha bisogno di infrastrutture o di altro altra invece su azione che andrebbe messa è la riduzione dei consumi a livello industriale e a livello agricolo anche attraverso i controlli dei pozzi degli incentivi e della formazione sulla riduzione dei consumi in agricoltura parleremo di agroecologia nei prossimi appuntamenti e sicuramente la diciamo la rigenerazione dei sistemi agricoli con delle siepi e cambiando le culture molto importante come è importante il riciclo dell'acqua nell'industria abbiamo già citato la riparazione degli acquedotti che attualmente perdono il 45% dell'acqua che scorre l'opzione zero cemento questo è importantissimo basta costruire basta nuove strade purtroppo ce ne sono anche in progetto come la bretella cisterna valmontone che è praticamente inutile sarebbe la terza strada in quell'area quindi andrebbe meglio mettere a posto quelle già esistenti piuttosto che farne una nuova la riforestazione urbana sicuramente e il recupero delle aree degradate agricole come dicevo con il sistema di sepi l'urbanistica green e blu eliminare la deimpermerizzazione del suolo ripristinare il deflusso delle acque che attualmente va via per le strade e il recupero dell'acqua piovana delle acque grigie per l'utilizzo all'interno dello stesso edificio bisogna appunto creare questi sistemi green e blu importantissimi soprattutto per quanto riguarda poi i cambiamenti climatici perché stiamo avvenendo sempre più a picchi delle piogge quindi ormai i sistemi fognari non sono più in grado neanche di mantenere il flusso che stiamo vedendo sicuramente la riforestazione come questo progetto che stiamo portando avanti con la fattoria di Aprilia che è appunto il progetto foresta viva dove vede la realizzazione di siepi e di foreste dove appunto non si fa più l'agricoltura e l'allevamento sicuramente sono importantissimi quei sistemi per la captazione dell'acqua all'interno delle zone urbane creando anche queste bellissime zone verdi quindi tutto un sistema che recupera le acque piovane non le fa andare via in fogna ma le fa entrare per colare nel sottosuolo anche con il recupero delle acque piovane le acque grigie per l'utilizzo interno all'interno degli edifici i cosiddetti giardini verdi autoalimentati con la pioggia e con le acque grigie qui vediamo dei sistemi che prendono l'acqua piovana e la incanano in maniera anche da eliminare problemi di alluvioni che sono appunto tipiche soluzioni green e blue quindi adesso abbiamo una ventina di minuti per rispondere alle vostre domande quindi se la mia collega mi dà una mano rispondiamo a tutte le domande che sono state fatte anna allora sia sì mi senti sì sì ok abbiamo una domanda un attimo solo c'è una domanda di Rosalba Rizzuto non si può regolamentare l'emmungimento da pozzi o vietarne completamente il prelievo facendo allacciare alla rete idrica le utenze allora beh innanzitutto molti pozzi se pensa almeno il 45% sono completamente abusivi quindi non si conoscono in realtà andrebbe fatta una vera e propria campagna di indagine per trovare i pozzi e poi comunque se quelle sicuramente è una delle cose da fare però ricordiamo che se poi si staccano dal loro pozzo privato e si allacciano alla rete idrica comunque la rete idrica prende da là l'acqua però sicuramente è una delle cose da fare cioè l'indagine tutti i pozzi abusivi che esistono che sono decine di migliaia quindi questa è sicuramente una delle cose da fare ok grazie poi c'è un'altra domanda di Rosalba Rizzuto per evitare il deflusso e l'asportazione delle acque da parte delle arterie stradali non si può imporre di usare gli asfalti drenanti che permettono l'infiltrazione lungo tutta la superficie stradale allora sicuramente gli asfalti drenanti sono importanti ma per le portate in gioco bisogna fare proprio dei sistemi veri e propri di captazione delle acque che scorrono lungo le strade e poi dei sistemi per rallentarle e rimetterle nelle falde superficiali quindi non basta l'asfalto drenante è parte della soluzione ok poi abbiamo una domanda di Paola Iurilli buonasera il pantano della doganella ha ancora acqua? per fortuna sì quest'anno l'associazione qui incontro natura ha censito quasi 600 uvature tra rospi e rane dal matine quindi per fortuna c'è acqua e c'è vita poi c'è una domanda di Candida Barbato qual è la risposta delle istituzioni rispetto a questa emergenza? allora è una domanda un po' particolare allora come WWF abbiamo denunciato ben 36 anni fa l'abbassamento del livello dei lachi cosa è stato fatto? la provincia di Roma nel 96 ha fatto delle attività poi però ha smesso la regione Lazio ha fatto una legge di protezione delle falde idriche dei castelli romani che però nessuno ha praticamente rispettato quindi esiste tutta la legge oggi ma praticamente nessuno sta facendo nulla addirittura alcuni comuni hanno fatto ricorso contro i vincoli che queste leggi le leggi di protezione del territorio mettono addirittura alcuni proprio intorno al lago di Nemi sono previste alcune lottizzazioni stiamo cercando di bloccarle quindi non solo le istituzioni hanno fatto ben poco ma in alcuni casi sono proprio i comuni che fanno finta di nulla e addirittura creano la situazione per cui questa realtà sta peggiorando quindi veramente istituzione ha fatto ben poco diciamo adesso col contratto di falda e di lago sicuramente stiamo cercando di coinvolgere le istituzioni più sensibili e stiamo rimettendo rimettendo in piedi un sistema per far muovere qualcosa io ho molta speranza in questo contratto è uno strumento nuovo mai utilizzato ai Castelli Romani è partito dalle associazioni stanno ci sono molte istituzioni che stanno aderendo tra cui il Parco dei Castelli Romani l'ente Roma Natura molte autorità di Bacino i consorsi di Bonifica qui insomma la speranza per il futuro c'è però fino adesso veramente la risposta di istituzione è stata praticamente uguale a zero grazie c'è una domanda di Tommaso Conte salve potrebbe parlarci meglio dei fenomeni di biofobia grazie beh questo ne parleremo all'ultimo incontro che è dedicato all'ecosofia e alla pornecologia quindi forse parleremo appunto approfonderemo anche la biofobia c'è una domanda di Gabriella Berardi quanto si studiano nelle università queste soluzioni ma purtroppo c'è un distacco tra quello che si studia e si fa nell'università con quello che si fa nella vita di tutti i giorni quindi in realtà si fa molto nell'università molte università hanno messo in piedi soluzioni e quant'altro però poi non semplicemente non vengono ascoltati quindi è quello il problema grazie poi abbiamo una domanda di Celeste Redaelli le concessioni degli stabilimenti del lago di Albano sono precedenti alla formazione del parco regionale dei castelli romani così come è oggi perché esistono se il lago è all'interno del parco protetto eppure questa è una bella domanda ma in realtà gli stabilimenti hanno cominciato a espandersi da quando i livelli dei laghi si sono abbassati quindi dagli anni 90 quindi il parco del 94 quindi più o meno l'aumento della superficie degli stabilimenti il parco dei castelli romani nascevano insieme e perché esistono se il lago è all'interno eh sì effettivamente questa è una bella domanda in realtà c'è un piano di gestione che prevede che solo il 40% della superficie ripariale di quell'area possa essere usata dagli stabilimenti però col fatto che i livelli si abbassano la superficie diventa sempre maggiore ed evidentemente il comune gli permette il comune di Castengandolfo gli permette di fare questa cosa insomma che appunto poi certo come abbiamo visto c'è chi lo gestisce bene c'è chi lo gestisce male chi addirittura appunto magari sta spingendo per utilizzare anche le aree rinaturalizzate grazie Emily mele chiede è vero che una fonte di acqua potabile a velletri molti anni fa è stata volontariamente inquinata per favorire la vendita dell'acqua di fiuggi eh non lo posso sapere però sicuramente rimane il fatto che ormai tutte le sorgenti pozzi hanno una buona dose di inquinamento sia di tipo naturale perché ormai prendiamo acqua fossile che è stata per millenni sottoterra ha avuto il tempo l'acqua di scambiare ioni con i vari minerali tant'è che eh un comitato eh di Albano e di Velleti ha praticamente fatto analisi chimiche per decenni facendo vedere che l'acqua che i comuni mettono gli acquedotti in alcuni casi avevano degli inquinanti naturali molto alti addirittura l'uranio quindi e poi abbiamo l'inquinamento invece prodotto dall'uomo e quindi purtroppo è proprio la qualità che è diminuita a causa sia del fatto che preleviamo ormai l'acqua a centinaia di metri di profondità sia per il fatto che in superficie l'acqua le falde ormai sono inquinate dall'agricoltura dall'industria abbiamo visto i fossi ormai sono pieni di discariche addirittura l'alve di alcuni fossi sono ormai diventati eh sono pavimentati da da plastica e da e da scarti dei cantieri quindi immaginiamo un po' grazie Paola Iurilli chiede mi potreste dare informazioni su quale formazione bisogna fare per lavorare come volontaria per aiutare gli animali del parco allora in realtà proprio questa serie di webinar è nato per formare i volontari quindi ci sono molti volontari che partecipano a questi webinar chi invece ancora non ne fa parte può scrivere all'organizzazione in maniera da essere inserito nei vari gruppi comunali di volontari eh che fanno capo capo a questo progetto quindi ci dovete inviare una mail a ecuistituto ghiocciola resedaweb.org ci inviate il vostro nome e cognome un numero di telefono abilitato per whatsapp ci dite in quale comune vivete così poi più o meno alla fine del progetto di formazione vi inseriamo nei gruppi di volontariato Viviana Capomaccio chiede si sa qualcosa degli emongimenti che fa il Vaticano dal Lago Albano sono regolamentati? Sì eh in particolare proprio all'interno del contratto dei laghi e di falda abbiamo contattato il Vaticano in particolare chi gestisce i giardini vaticani e l'azienda agricola che è all'interno loro ci hanno detto che non solo hanno diminuito di molto eh l'acqua che potevano prendere dal lago e quindi stanno facendo tutto un sistema di risparmio idrico e quindi sono regolamentari sappiamo più o meno quant'è la portata sfato un una diceria che c'è non è solo l'emongimento del Vaticano dei pozzi che stanno intorno al lago che stanno diminuendo il livello come abbiamo visto è l'intera falda che si sta abbassando quindi non basta fermare un pozzo eh tutto eh tutta la pressione antropica di tutta la popolazione dei castelli romani che incide su questo problema certamente vanno controllati i pozzi in particolare questi che sono particolarmente grandi però non basta giustificare il livello che si sta abbassando grazie Calamante chiede eh quindi visto l'inquinamento secondo lei i laghi di Nemi e di Albano sono balneabili? allora eh dipende eh alcune volte sono balneabili alcune volte no sicuramente stiamo andando sempre più verso un peggioramento della qualità delle acque sempre di più parassitosi eh ci sono l'Istituto Superiore di Sanità eh monitora continuamente la qualità delle acque in particolare per appunto le alghe rosse altri parassitosi che ci possono essere quindi sì sono balneabili però eh a volte no a volte diventano non balneabili eh certamente eh il peggioramento sta aumentando sempre di più non solo l'abbassamento del livello fa in maniera che eh la zona balneabile cioè la zona dove bambini famiglie possono fare il bagno diventa sempre più ripida e sempre più ricca di limo quindi diventa anche pericoloso proprio per chi fa il bagno in quelle aree grazie Elena Mazzoni chiede nel recovery fund sono previste risorse per la valorizzazione della risorsa idrica mentre parallelamente si va verso la finanziarizzazione dell'acqua come denunciato dai forum dei movimenti per l'acqua pubblica la soluzione è costringere Acea e gli altri gestori a riparare gli acquedotti come vigilare affinché le risorse vengano utilizzate correttamente ma io non faccio parte del governo quindi non so se nel recovery fund metteranno appunto questa cosa questa azione che invece dovrebbe essere principale sicuramente abbiamo chiesto ad Acea però ancora non ci ha risposto come mai non mette in campo un investimento per riparare gli acquedotti quindi questo fa parte di quelle cose che le istituzioni non stanno facendo ok poi abbiamo una domanda di scusate un attimo leggo sull'arsenico sull'arsenico come siamo messi con i livelli di arsenico allora logicamente l'arsenico come l'uranio e altri minerali che sono naturalmente all'interno delle rocce sono entrate nell'acqua perché appunto attingiamo ad acqua ormai fossile quindi i livelli di arsenico sono alti solo che vengono diluiti perché l'acqua dei pozzi poi viene per esempio diluita dall'acqua proveniente dell'acquedotto Simbrini quindi costantemente cercano di tenere bassi questi livelli che però ormai sono alti dall'acqua che esce direttamente dai pozzi Tommasina Branca Tisano chiede ma gli stabilimenti possono accaparrarsi il passaggio perché lo fanno? quello è il comune il comune di Castengandolfo sono i comuni in generale che permettono queste cose il regolamento certamente non prevede di proteggere l'ambiente in realtà come abbiamo detto solo il 40% della superficie dovrebbe essere per gli stabilimenti però questo sembrerebbe che non avviene perché avete visto da quella foto satellitare praticamente ormai sono poche le zone naturalizzate che dove non ci sono stabilimenti e c'è una pressione che abbiamo visto molto forte anche con questa con queste notizie contro la natura presente in zona purtroppo abbiamo visto pure l'altra volta quando abbiamo parlato di fauna che sono molte le testimonianze di gente che spara o tirasassi anche i cinghiali che ormai naturalmente si stanno rimpossessando delle coste perché appunto queste superfici vengono rinaturalizzate e ci sembra che tutto questo aumento di questa paura sia anche strumentale al fatto di dire puliamo tutto eliminiamo tutto in maniera che poi possiamo fare gli stabilimenti ecco questa cosa è una cosa che va bloccata non è possibile Amerigo Mizzon chiede pensi che sia una possibile soluzione coinvolgere le nuove generazioni? Certamente le nuove generazioni vanno coinvolte però vanno coinvolte anche quelle attuali perché questo è un problema che se non risolviamo nuove generazioni non avranno più i laghi perché se si abbassano di 30 cm l'anno fra 10 anni ci saranno 3 metri in meno quindi il lago Albano 7,8,9,10 sarà 11 metri in meno quindi sarà diventata una pozzanghera piena di fango quindi dobbiamo fare sicuramente subito qualcosa certo dobbiamo pure fare educazione ambientale ai giovani cosa che non abbiamo fatto seriamente fino adesso quindi sicuramente quella è una delle azioni importanti da fare Paola Petrucci chiede tempo fa si parlava dell'arsenico nell'acqua come la situazione oggi ma probabilmente è già risposto eh eh Claudia Stivali chiede la fonte dell'acqua regilla a Roccapriora fa parte della rete idrica dei castelli ma non è ma ma è non è inquinata ma non è inquinata contribuisce all'abbassamento della falda sì certo contribuisce all'inquinamento della falda sicuramente contribuisce abbiamo detto che il solo acquedotto della doganella quella regilla sta proprio sta lì vicino quindi fa parte della stessa falda sospesa della doganella eh porta via 39 milioni di metri cubi d'acqua che è maggiore dei 33 milioni da milioni d'acqua che viene dalla pioggia quindi già quelle sorgenti là superano la quantità di pioggia che cade ogni anno domanda da Francesca Innocenzi mi sono dovuta assentare durante alcuni minuti per motivi familiari quindi non so se ne avete parlato volevo sapere se anche l'acqua di Nemi presenta una buona dose di inquinanti perché la beviamo regolarmente in famiglia grazie allora diciamo che l'acqua come esce dalle pozzi è inquinata poi logicamente chi gestisce gli acquedotti o filtrandola ma molto più spesso diluendola con acqua proveniente da altri acquedotti la diluisce in maniera da riportare il livello dell'inquinante sotto i limiti di legge quindi la risposta è l'acqua inquinata però te la portano a casa non inquinata certamente come ben sapete poi per eliminare alcuni inquinanti la riempono di cloro e il cloro è tossico a lungo andare oltre il fatto che rende imbivibile l'acqua quindi poi siamo costretti a casa a filtrarla ulteriormente Alessandra Fiandra chiede a quale tipo di fenomeno è dovuta la presenza di arsenico nell'acqua di Ranuvio allora l'arsenico in tutte le acque fossili dei castelli romani quindi in qualsiasi pozzo comunale o meno che prende acqua da profondità sopra i 300 metri abbiamo visto che l'arsenico è presente e come dicevo prima è presente perché quell'acqua è un'acqua fossile che è stata per milioni di anni sì scusate no per migliaia di anni a contatto con le rocce dove c'è naturalmente l'arsenico l'uranio e altri minerali quindi in questi migliaia di anni questi minerali sono naturalmente migrati nell'acqua che poi noi tirando su la troviamo appunto con questi però non è arsenico d'origine artificiale umana è naturalmente presente nelle acque vulcaniche dei castelli romani Emily Mele chiede la raccolta dell'acqua piovana per uso agricolo potrebbe danneggiare l'ecosistema? certo certo sia perché ne consumano troppa sia perché è inquinata Laura Mancini gli enti preposti non controllano la presenza di scarichi civili nei laghi? bella domanda anche questa evidentemente no perché se abbiamo degli inquinanti presenti nei laghi e sappiamo che quegli inquinanti come abbiamo visto hanno un profilo che ricalca scarichi civili al lago Albano soprattutto e scarica agricoli nel lago De Nemi significa evidentemente che questi scarichi non vengono controllati ricordiamo che molti sono proprio abusivi di scarichi quindi non vengono controllati ma neanche vengono cercati perché per controllarli devi anche cercare prima perché se sono abusivi sono completamente illegali quindi non mappati in nessuna mappa quindi qualcuno deve andare lì mettersi lì e fare e fare le pulci a chi sta inquinando Tiziano Felci chiede è vero che è in atto un progetto che prevede la potabilizzazione delle acque del Tevere per l'area di Roma e dei castelli che vedevo dire speriamo di no perché già il Tevere ha dei problemi come tutti i fiumi italiani potabilizzare l'acqua del Tevere significa che poi ci beviamo l'acqua disinquinata nel senso che hanno abbassato i livelli degli inquinanti ma sempre inquinati in realtà c'era una proposta di utilizzare quell'acqua per rimetterla nei laghi ma come dicevo prima è assurda questa cosa perché in realtà porterebbe acqua inquinata nei laghi quindi li distruggerebbe completamente non dobbiamo solo ripristinare il livello delle falde dobbiamo pure fare in maniera che questo ripristino sia naturale e con i tempi dovuti quindi non possiamo prendere un'acqua edotta e buttarlo semplicemente nel lago come qualche politico poco competente ha suggerito domasina Brancatisano chiede ma gli acquedotti di marino ad esempio inquinata ossia non viene da sorgenti viene da pozzi che voi sappiate come dicevo prima quasi tutte le acque sono inquinate quindi in realtà quello che succede è che a monto o a valle vengono disinquinate con dei sistemi oppure vengono diluite con degli acquedotti che sono meno inquinati rispetto agli altri quindi si abbassa il livello dell'inquinamento in maniera artificiale cioè se io ho 10 litri di acqua inquinata da un certo inquinante la diluisco in altri 100 litri di acqua meno inquinata e quindi riporto il livello degli inquinanti sotto i limiti di legge perché purtroppo ormai tutta l'acqua è inquinata cioè il problema dell'acqua delle acque dolci è un problema planetario quindi non è che possiamo prendere l'acqua pulita da qualche parte ormai tutta l'acqua è inquinata quindi quello che dobbiamo fare è smettere di inquinarla cioè purtroppo non c'è altra soluzione definitiva tutte le soluzioni sono soluzioni di tipo momentaneo che non so la CEA prende l'acqua dei castelli romani dei pozzi dei castelli romani e la diluisce con quella proveniente per esempio dall'acquedotto Simbrivio che viene dalle montagne e quindi ripristina il livello degli inquinanti a norma di legge però comunque la prende da pozzi che sono purtroppo ormai inquinati Alessia Lanciotti chiede io non compro acqua per non generare plastica ma l'acqua dei rubinetti dei castelli è inquinata come possiamo evitare danni alla salute i depuratori casalinghi sono utili? Sicuramente i depuratori casalinghi sono utili e sicuramente pure l'acqua delle bottiglie di plastica non è così poco inquinata sia perché comunque viene dagli stessi pozzi dagli stessi acquedotti solo che poi vengono etichettati però probabilmente l'origine è sempre quella e anche poi perché è stata dentro la plastica quindi tenere l'acqua dentro la plastica per settimane magari anche sotto al sole e poi berla sicuramente non ci fa bene in realtà come dicevo prima l'acqua che arriva ai rubinetti è potabile ora logicamente che significa potabile? potabile significa che gli inquinanti presenti sono sotto il livello di legge questo non so se vi ricordate un po' di anni fa la questione della trazina che era un diserbante chimico che veniva utilizzato nell'agricoltura e poi si è trovata questa trazina nei pozzi il governo italiano come ha risolto? ha risolto aumentando il livello per cui veniva considerata potabile quindi invece di eliminare l'inquinante hanno aumentato il livello della legge logicamente questa non è una soluzione definitiva in realtà per fortuna poi chi gestisce gli acquedotti comunque ci fa arrivare dentro casa dell'acqua potabile quindi con pochi inquinanti quindi non esiste l'acqua non inquinata esiste l'acqua con pochi inquinanti quindi se io poi la filtro con dei depuratori in particolare che non so ai filtri di carbonio o a osmosi inversa sicuramente riduco ulteriormente questi inquinanti io per esempio la uso in casa non solo per eliminare le bottiglie quindi non compro acqua al supermercato uso l'acqua del rubinetto però la filtro con un sistema molto semplice ai carboni soprattutto per eliminare il cloro che purtroppo la fa rendere imbevibile oltre a renderla ulteriormente tossica non so se la stessa situazione per fortuna non tutti hanno non tutti i comuni hanno acqua così ricca di cloro e quindi qualcuno potrebbe anche bere l'acqua direttamente sicuramente per esempio a Zagarola a Rocca di Papa magari avete acqua un pochino più diciamo più pulita però tendenzialmente come appunto vi dicevo è sempre bene filtrarla a casa Veronica De Simone chiede come si potrebbe salvare il lago addirittura incrementare l'acqua e il suo habitat noi nel nostro piccolo cosa possiamo fare? allora sicuramente stiamo cercando di fare una campagna in questo potete essere molto utili per appunto far conoscere queste realtà noi metteremo a disposizione anche la registrazione chi poi vuole può seguire i nostri gruppi sia Bioregione dei Castelli Romani sia SOS Laghi sia Riforestiamo i Castelli Romani in maniera da vedere i post che mettiamo e diffondendoli poi può diventare un volontario perché alcune cose vanno fatte proprio praticamente sul campo noi per esempio al lago Albano e al lago di Nemi abbiamo fatto anche piantumazione di piante autoctone che stiamo coltivando nei nostri vivai proprio per non fare sparire queste queste piante oltre al fatto che è possibile anche mettere in campo delle azioni dirette per esempio con l'assessorato ambiente del comune di Albano Laziale stiamo cercando di fare delle attività sia di riforestazione ma anche cosiddette azioni blu per riportare l'acqua nelle falde intercettandole usando le aree verdi per appunto creare questi sistemi che riportano l'acqua piovana nelle falde quindi si può fare molto però bisogna farlo non da soli in gruppo e con la formazione adeguata un'ultima domanda l'agricoltura no era ultima Paolo Boccardi chiede l'agricoltura quanto incide sui prelievi d'acqua le culture attuali sono sostenibili o potremmo pensare ad altre culture esistono progetti in questo senso sì sicuramente è importante è importante l'agricoltura perché tanto se uno dei principali consumatori delle falde si è fatto uno studio per esempio sul fatto di convertire le coltivazioni di kiwi che hanno bisogno di molta acqua con coltivazioni che hanno meno bisogno di acqua abbiamo parlato prima del progetto Foresta Viva per il cambio d'allevamento ad attività foraggere che hanno bisogno di meno acqua la realizzazione di siepi e foreste quindi sicuramente il mondo dell'agricoltura ma poi ne parleremo quando si parla e si parla di appunto di quando parleremo di agroecologia vedremo appunto una di queste diciamo le azioni che si possono mettere nel campo dell'agricoltura poi l'ultima l'ultima domanda sì sì l'ultima domanda di Veronica De Simone vorrei diventare volontaria ma purtroppo non ho ricevuto una risposta alla mail inoltre vorrei diventare guida escursionista naturalista come si può? guarda Veronica se ci inviei l'email a costituto chiocciolarese da web punto org noi rispondiamo a tutto a tutti evidentemente non c'è arrivata quindi se la puoi cortesemente reinviare così ti rispondo però come già dicevo prima basta che ci mandate nome e cognome numero di whatsapp e comune di residenza non subito ma quasi alla fine del progetto formativo habitat che stiamo facendo insieme al sistema bibliotecario dei castelli romani vi inseriremo nelle liste nei gruppi whatsapp dei volontari quindi potrete partecipare nel frattempo ci potete seguire sui gruppi facebook sia di bioregione castelli romani sia di sos laghi castelli romani sia di riforestiamo i castelli romani quindi ecco ci potete tranquillamente contattare diciamo noi abbiamo risposto a tutti quindi se cortesemente chi non ha ricevuto risposta può reinviare alle mail che adesso sto rimettendo sullo schermo che è quello appunto delle costituto aspettate un attimo devo tornare indietro eccola qui va bene quindi abbiamo risposto a moltissime domande io ringrazio Anna che mi ha dato una mano sia nell'introduzione sia poi per l'organizzazione del webinar del webinar ringrazio tutto il personale del sistema bibliotecario dei castelli romani in particolare Laura Fabio Marta e il direttore Giacomo Tortorici vi consiglio di iscrivervi subito appena possibile al prossimo webinar che dovrebbe essere sul clima che cambia vediamo il programma lo ricordiamo quindi sì praticamente adesso abbiamo fatto i primi quattro incontri sul territorio dei castelli romani da prossimo incontro ci allargheremo come abbiamo detto agire localmente pensare globalmente quindi adesso abbiamo fatto la parte agire localmente adesso vedremo come pensare globalmente inizieremo proprio dai cambiamenti climatici e il clima come funziona l'ecosistema terra e l'atmosfera poi vedremo come l'umanità sta cambiando il clima i meccanismi e le soluzioni parleremo di sostenibilità ecologica al settimo incontro principi base e calcolo e l'uso di impronta ecologica poi ecogiografia agroecologia e poi l'ultimo incontro ecosofia e pornecologia vi ringrazio a tutti quanti rimanete in contatto iscrivetevi prima possibile ai prossimi webinar buonasera a tutti e grazie di aver partecipato